Ciao, io sono Francesco, sono benedetto chimico e dottor in chimica industriale. Oggi ti spiego quali sono i tipi di reazioni chimiche più comuni. Molte reazioni chimiche avvengono secondo schemi abbastanza semplici, che si possono ricondurre a quattro tipi fondamentali, in base a come si riaggregano tra l'altro gli atomi o i gruppi atomici presenti nei reagenti. Ci sono quattro tipi di reazioni. Il primo è la reazione di sintesi, in cui si ha una combinazione di due o più reagenti che danno un solo prodotto, quindi A più B uguale C. Il secondo tipo è una reazione di decomposizione, in cui un reagente, per esempio AB, si scinde per dare due prodotti, quindi A più B. Ora siamo arrivati al terzo tipo di reazione chimica più comune, che è lo scambio semplice, in cui si hanno due reagenti e due prodotti, ma sostanzialmente B, che è un reagente generico, va a essere scambiato. La reazione chimica di doppio scambio è il quarto tipo di reazione più comune, in cui si hanno sempre due reagenti e due prodotti, però ci sono due specie chimiche, quindi B e D, che vengono scambiate. Questi sono tutti esempi di reazioni di sintesi. Sono reazioni in cui da due o più elementi, o composti semplici, si ottiene un solo composto. Vedete che tutte queste reazioni qui che vi ho messo hanno questa caratteristica. Alcune reazioni richiedono la presenza di calore o energia, in maniera generale, per poter avvenire. Le reazioni in cui un metallo e uno metallo si combinano con l'ossigeno costituiscono due esempi di reazione di combustione. Tutti i metalli, tranne i cosiddetti metalli nobili, come oro, agente o platino, si combinano con l'ossigeno puro. Sono reazioni di sintesi anche la formazione di un ossiacido, dato dalla combinazione tra un anidride e l'acqua, e anche quella di un idrossido, quindi l'unione tra un ossido basico e l'acqua. Alcuni sali binadi possono essere preparati direttamente per reazione tra il metallo e il non metallo. L'ogliottura di alluminio, ALI3, si può ottenere miscelando alluminio in polvere e iodio in cristalli e innescando la reazione per raggiunta di una goccia d'acqua. La reazione libera una grande quantità di calore che provoca la sublimazione di una parte dello iodio, e quindi vapore di ola. Questi sono tutti esempi di reazioni di decomposizione. Si è una reazione di decomposizione quando un unico reagente si decompone in due o più prodotti. Per questo motivo tali reazioni possono essere considerate l'inverso delle reazioni di sintesi. Tutte le decomposizioni sono favorite dal riscaldamento a temperatura elevata. Per produrre ossigeno in laboratorio si aggiunge una piccola quantità di diossido di manganese a una soluzione di acqua ossigenata. Il diossido di manganese Mn2 agisce da catalizzatore e velocizza i proseguissi della reazione. La decomposizione del perossido di idrogeno, cioè l'acqua ossigenata, e quella del clorato di potassio, KcelO3, sono fra i metodi più pratici per preparare l'ossigeno in laboratorio. Tutti i carbonati, eccetto quelli dei metalli alcalini del gruppo primo e i bicarbonati, si decompongono liberando CO2. La reazione di decomposizione del carbonato di calcio è sfruttata a livello industriale per ottenere la calce, cioè l'ossido di calcio, che trova impiego come elegante nel settore delle costruzioni. Gli idrossidi, esclusi quelli dei metalli alcalini, si decompongono per il scalamento e formano l'ossido del metallo e l'acqua. Nella reazione di scambio o di spostamento, un elemento libero sposta un altro elemento da un suo composto. L'elemento spostato diviene a sua volta libero. Non tutte le reazioni di scambio possono avvenire spontaneamente. Affinché ciò accada, è necessario che l'elemento libero A sia più reattivo di quello B che deve essere spostato dal composto. Questa è la serie di reattività di alcuni elementi. Quelli in alto sono più reattivi e possono spostare uno o qualsiasi degli elementi sottostati da un suo composto. Per esempio, lo zinco, Zn, sostituisce l'idrogeno nel composto HCl. Tra la reazione si libera l'idrogeno gassoso, H2, e si forma un nuovo composto, il cloruro di zinco. Il rame che segue l'idrogeno nella serie è pieno reattivo dell'idrogeno e non lo sostituisce nei suoi composti. Le reazioni di spostamento non avvengono soltanto in fase solida, ma anche in soluzione acquosa. I metalli dei gruppi primo e secondo, per esempio, sono tra i più reattivi e riescono a spostare l'idrogeno dal composto acqua. Il risultato è la liberazione di idrogeno gassoso e la formazione delle soluzioni acquose dei rispettivi idrossidi. Quando il magnesio reagisce con l'acqua, si libera idrogeno gassoso e si forma una soluzione di idrossido di magnesio, ricca di ioni idrossido. La reazione è questa qui. Ora vediamo le reazioni di doppio scambio. Appartengono a questa categoria tutte le reazioni in cui i due composti si scambiano ai partner. L'ione positivo di un regente si combina con l'ione negativo dell'altro regente e viceversa. Tali reazioni sono caratterizzate dalla formazione di gas, o di soliti poco solubili precipitati, o di altri composti molecolari, come per esempio l'acqua. Questi che vi ho riportato sono alcuni esempi di reazioni di doppio scambio. Le reazioni di precipitazione sono trasformazioni di grande effetto. Unendo due liquidi limpidi, si osserva l'immediata formazione di un solido bianco o colorato che rende torbida la soluzione. Le reazioni di doppio scambio che comportano alla formazione di prodotti gasosi hanno spesso parecchie applicazioni pratiche. È possibile per esempio eliminare le incrostazioni calcare trattandole con prodotti a carattere acido. L'acido disgrega il carbonato di calcio che le costituisce perché libera di ossido di carbonio, CO2, talo ione carbonato, secondo questa reazione. L'aggiunta di una soluzione di idrossido di potassio o di idrossido di sodio a una soluzione di un sale d'ammonio invece provoca la liberazione di ammoniaca gassosa, NH3, il cui caratteristico odore è facilmente riconoscibile. La reazione è la seguente. Le reazioni di doppio scambio più significative che portano alla formazione di acqua sono le reazioni acido-base, così chiamate perché avvengono tra un acido e una base. Sono anche note con il nome di reazione di neutralizzazione, in quanto le proprietà degli acidi vengono annullate da quelle delle basi e viceversa. Vi lascio qui in alto il mio video sugli acidi e basi se vuoi approfondire l'argomento. Grazie per aver guardato questo video, spero che il contenuto sia stato utile. Se ti è piaciuto lasciami un like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video di chimica. A presto e un saluto da Frank. Ciao!